Nel Salone Donatello della Basilica di San Lorenzo una mostra racconta il collezionismo naturalistico a Firenze. Ce ne parla Federico Monechi. La Coppa di Quarzo di Aspro porta incise le iniziali di Lorenzo de' Medici e il mantello di piume di Ibris indossato dai sacerdoti della popolazione precolombiana dei Tupinamba fu donato alla famiglia de' Medici. Inizia così un viaggio tra scienza e arte lungo una linea del tempo che dalla scoperta dell'America arriva ai giorni nostri, all'evoluzione della conoscenza del pianeta e della sua biodiversità. La storia del collezionismo dai Medici ai Lorena, fondatori del Museo di Storia Naturale di Firenze. Questo viaggio, che io chiamerei così, un viaggio nella strutturazione, nella formazione di un museo di storia naturale che ha Firenze al centro. Quindi l'idea di restituire a Firenze è un tesoro preziosissimo che magari conoscono forse in pochi, perché in pochi sanno che Firenze oltre ad essere stata una grandissima città d'arte è stata anche una grandissima città di scienza. Con il Museo della Specola chiuso per restauro, la storia del collezionismo scientifico rivive nel Salone Donatello della Basilica di San Lorenzo, vicino alle tombe dei Medici. Natura collecta, natura exibita. Per i visitatori è un'esperienza tutta nuova, di conoscenza e di meraviglia. Un nome lega scienza e fede, il beato Niccolò Stenone, vescovo e scienziato, sepolto in San Lorenzo. Una sezione dedicata alla ceroplastica fiorentina, le famose cere della specola, dalla ricostruzione fedelissima del corpo umano, di quelle anatomiche, alle sorprendenti cere botaniche di piante e fiori. Credo che nessuno, visitando questa mostra, non sarà toccato in alcuni elementi esperienziali dei propri interessi, perché si va dalle scienze naturali, alla storia dell'arte, alla letteratura, a tutti gli aspetti che possono in qualche modo animarci. Quindi invito tutti a ritrovare la propria storia all'interno di questo percorso e magari a costruirne una con gli stessi oggetti. L'esposizione nasce dalla collaborazione del sistema museale dell'Ateneo di Firenze con l'Opera Medicia Laurenziana e la parrocchia di San Lorenzo.